Oggi è giovedì, ultimo allenamento di questa settimana, in quanto i nostri allievi sabato scenderanno in campo in trasferta a Miglianico contro la locale Compagine, valevole per la quarta giornata del campionato provinciale allievi Girone Chieti. Ci stiamo allenando al campo vecchio di Via Nazionale. I ragazzi da poco hanno cominciato gli allenamenti con gli esercizi di riscaldamento sotto lo sguardo vigile di Mister Gabriele. Mentre da quest'altro lato ci sono i giovanissimi di Mister Giovanni. I giovanissimi di Mister Giovanni si stanno allenando nell'altra metà campo. L'aria è un po' freschina. Ecco ancora le corse con Nicola, con Renzo, Michele, Amedeo. Il nostro guido, il guido si riconosce con la calza maglia. Ecco Riccardo, ecco pure Pitbull, Lele, Antonio, Nicola, Michele per ultimo. Ecco riccardo, ecco solo, ecco riccardo come! Ecco lo si riconosce con i giovanossi guido sol. Women so liono un nuovo gioco! Adesso ci sono i giovanissimi di energia! Aga Grazie.